musica Benvenuti ragazzi e benvenuti sul mio canale ragazzi Oggi ragazzi, come ci fatti ragazzi, oggi vado a fare la spesa alla coppa di Veroso in Basilicata Ragazzi, quindi ragazzi, mi sposterò dalla Puglia alla Basilicata, quindi mi sposterò di Regione Quindi ragazzi, ci vediamo in strada Ragazzi, ora sto andando al garage, prendendo la macchina Ragazzi, ci vediamo in strada Ragazzi, ci vediamo in strada Ragazzi, ci vediamo in strada Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.